Una volta che io dico come stanno effettivamente le cose, quindi l'armonia biblica, quello che dice la parola di Dio, io praticamente ho detto tutto, quindi è del tutto superfluo come dire andare a fare nomi, cognomi eccetera, poi dall'altra parte la persona che ascolta quell'informazione deve essere in quel caso responsabile di valutare alla luce della parola di Dio e di un buon insegnamento di che cosa si tratta, di che cose si sta trovando avanti, anche perché c'è un principio che è quello di cosa vogliamo dare, vogliamo dare praticamente pacchi di riso in continuazione alla gente, o vogliamo insegnare loro a coltivare da se stessi il riso e quindi rendersi veramente autonomi, autosufficienti e fare bene, no? Quindi il problema che c'è è chi invece magari vuole vivere solo di riflesso, cioè di qualcuno che ti deve sempre dire cosa devi fare, a chi devi ascoltare, a chi non devi ascoltare, ma scusa, non è meglio imparare i principi biblici e considerare che tutto quello che non è in armonia con la Bibbia non va bene, quindi una volta che capisci qual è l'errore e perché è un errore teologicamente, biblicamente parlando, basta, tu sei a posto, seguirai il retto sentiero e ogni qual volta ti si presenterà degli errori sotto le svariate maniere e lo si potrà evitare senza problemi.